Musica Hello guys, Renan here Benvenuti in questo nuovo video qui su Call of Duty Black Ops 2 Allora, visto che l'ultima volta non avevo ben capito All'utilizzo del KSG Siamo questo pompa, mi sembra di sì Ho detto, ma sì, facciamo come mi hanno consigliato i guys E andiamo, ovviamente guys significa sempre ragazzi Non fraintendiamo E niente, ho detto proviamo a utilizzarlo come mi hanno detto loro Quindi ho detto, avete detto tutti insieme Renan, guarda che il KSG KSG, come lo vogliamo chiamare E' un pompone, un po' anomalo Mi avete detto Sono quelle pompe che ti lasciano un po' stranito E ho detto, va bene Allora, come devo prenderla questa pompa? E voi mi avete spiegato che in realtà spara un solo colpo Invece che un pallettone E quindi devo mirare E che è tipo una specie di cecchino senza mirino Cioè è stata la descrizione che mi avete fatto Di questa pompa Eh, di questo pompa, scusate Oh che cazzo mio Dio, che paura La ferisci tu di uscire degli angoli Così senza pisare Tipo bro, guarda che sto uscendo Mamma, io non lo so Ok Ok, allora Io capisco non mirare perché Cioè, mirare Perché così sei più preciso Che insomma, da quella vicinanza E' comunque un colpo di pompa, ok? Che è un colpo singolo E' comunque un bel colpo grosso Cioè dovrei prenderti, bello De Papino Bello De Papino Oh Cos'è, ti divertivi anche tu col KSG Il KSG, praticamente Il KSG Da oggi quest'arma si chiamerà KSG, guys Non so se l'avete saputo Se vi è arrivata la comunicazione scritta Di questa, di questa novità Ma ve la dico io Oh la Ma, minchia che botta Quello è rimasto, aspettate Guardate, guardate, guardate Quello è rimasto tipo Oh my god Ok, basta, basta, basta Basta, basta Dire stronzate Cerchiamo di fare un punteggio Un bel punteggio So che non mi crederete mai Ma, purtroppo, prima Cioè io, quando registro questi episodi Ovviamente aspetto che Entrano nella lobby Aspetto che finisca la partita E ne registro una intera Dovete sapere che nella lobby di prima Stavo facendo 7-1 Non capisco perché Quando registro Faccio sempre pena Ok, che era su Nuketown Con un pompa Cioè, effettivamente Prendi tipo tu per tutta la mappa Però Cioè, adesso non venitemi a dire Eh, ma rendi Stavi giocando su Nuketown Punto esclamativo Punto esclamativo 1-1-1 Cioè Non è solo per quello È perché È proprio la situazione Del 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 che? Del registrare video Che mi mette sotto pressione Dice Oh my god Ma allora Devo fare bella figura Con i guys Perché Se no Se no Oh mio dio Perché Perché Non 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 è morto Cioè Eeeh L'abbiamo visto Ok, sì, ok Andiamo, andiamo Eccolo Eccolo Ma non è già il caso Volevo canticchiare La sigla di Beautiful Avete mai visto Beautiful? Io purtroppo sì Come già vi ho detto Parecchie volte Ok Ok Oh mio dio Due Oh mio dio Granata Eh, cavolo Ascoltate Se c'è uno da un lato Un altro dall'altro lato E poi la granata E diventa Difficile Con un pompone Che non spara Come se fosse Non lo so Comandato da Gesù Ma fosse un pompone E basta Io Vorrei Vorrei far capire A queste persone Che ha una dignità Come Renna E non posso fare tre semi Oddio Che partita di merda Oh mio dio Allora Cerchiamo Di recuperare Il L'irrecuperabile Perché Penso sia diventato Irrecuperabile Carica stronzo Carica Bravissimo Ok Ok Mamma mia One shot One kill Carica Carica No Via dalle semtex Oh 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 Preso Mamma mia Mamma mia Renna Sei un dio Si 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 Sto campionando nel tunnel Il tunnel funziona Sono fuori dal tunnel Dal divertimento Ok Ok basta 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 Dove Dove cazzo Comunque Comunque se mi sentite un po' giù Ma non penso Perché io sono sempre Molto epico E sdrogheggiante Su Ovviamente Essendo epico E sdrogheggiante Non potrei essere giù Oh Cristo E Perché Ho praticamente Passato tutto 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 Il giorno A sistemare il computer Mio padre Cioè Il computer mio padre Che è un computer Normalissimo Un fisso No tipo Quelli che avete Che state utilizzando Per guardarmi Anche se so Che alla maggior parte Voi mi guardano Tipo da Ipad Iphone Icats E Imats E smartphone Vari E E se Vi chiedete Come faccio Saperlo Ma lo dice youtube Perché youtube Parla con me Io lo sento Lo vedo Lo sogno di notte Guys A parte gli scherzi Crepa Ok E A parte gli scherzi Stavo dicendo Un computer Normalissimo E allora mi fa E Andrea senti Bla 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 Anzi chiamiamolo Facciamolo più figo Tipo Figliolo Ok mi piace figliolo Ho problemi con Con il pc Dammi una mano E allora Mamma mia Ho ucciso con la grata Mi sento realizzato Un love Road to love Ce l'abbiamo fatta Guys Ce l'abbiamo fatta Adesso non dico Che arrivo anche All'elicotterino Perché sennò Poi mi monto Troppo la testa E No Cerchiamo di Tenerci con i piedi Per terra O sopra Le scarpe E comunque Stavo dicendo Fatemi finire Questa frase Mi interrompete sempre Ma Ma io non lo so Ma come si fa Con i giovani d'oggi Giovani d'oggi E Che cazzo Oh L'elicotterino Oh mio dio Lo lanciamo così Proprio Senza senso Ok E E Gli approvvigionamenti Ma che cazzo è diventato Renna Renna ultra killing Oh Doppia kill del drone Mamma mia Qui Adesso Come Come minimo si bloccheranno Da qualche parte Ma come minimo proprio Allora Stavo dicendo Oh Oh cazzo E stavo Sistemando il copio Di mio padre E mi fa Guarda che si blocca E Non so perché Si blocca E Si sono bloccati Anche gli approvvigionamenti Ah no Eccoli qua F Grazie Oh yeah Drone d'attacco Andiamo E dove lo lanciamo Lo lanciamo Lo lanciamo Qui Addosso al tipo Che ci vuole accoltellare No E Se l'abbiamo perso Vabbè guys Fatemi finire prima Di dirvi questa cosa Anzi io ne farei un'altra Ho deciso che ne farò un'altra E Nel mentre parliamo E Che stavo dicendo Che esattamente Mi ha portato questo computer Che si bloccava E io faccio Bah si è bloccato Bah forse è preso un virus Sono quelle cose Che pensi Probabilmente Quando una persona Non sa Non sa a che fare Non sa con cosa Ha a che fare Ecco E quindi Abbiamo sbloccato Una mimetica E E allora Mi sono messo lì Ho aperto il computer E poi ho iniziato A fare i miei test E non capisco Perché si ostinino A non inserire All'interno Di questi cazzo Di computer Di fascia bassa Le Le piccole Cassette Quelle che servono Per farti fare Il bip Della scheda madre Solitamente Le Le schede madre Più Più nuove Ci hanno Tutto integrato Non capisco Perché non c'erano Che eserano Ma Mio dio Ne parliamo appena Appena parte la partita Due minuti Siamo su Carrier Si chiama Carrier Stamappa Si Carrier Chiedo Venia Prendiamo il cecchino Perché prima Abbiamo utilizzato Il pompone Quindi Cambiamo arma Cambiamo Armolas Se spuntasso Se spuntasse In maniera In maniera tale Che io Vi possa Cecchinare E voi Poteste Non prendermi Sarebbe Una cosa Fantastica Stavo dicendo Che praticamente Il computer Di mio padre Si è Altamente Bloccato E io Non riuscivo A capire Altamente Di che cazzo Si trattava Poi ho capito Che era una ram Bruciata E abbiamo Sistemato il tutto Però Però Dico a voi Produttore di pc Che certamente Starete ascoltando I miei video Perché io so Che mi seguono Tutti i produttori Di pc Mio dio mi hanno cecchinato Dall'altro lato Ah no Da dietro Ok no Pensavo fosse tipo Dall'altro lato Del mondo Invece no E Sto dicendo A tutti voi Produttori di pc Metteteci da quelle Cazzo di casse Perché così A seconda Del bip Che sento Quando avvio il pc So che cazzo Di problemà Grazie Comunicazioni di servizio In questo periodo Però sto guardando Tantissimo Big Bang Theory In realtà L'avevo già visto Qualche mese fa Poi mi è capitato Di riprendere A vederlo Su fox Perché Ho sky Quindi Su fox La sera Prima di Adesso non ricordo Che cazzo di ora Lo fa alle 7 Mi sembra Lo fa alle 7 Sì Fa Big Bang Theory Appunto E Praticamente Mi è capitato Di rivederlo In quel caso Oddio Alzati Preso Mamma mia Renna Sono morto Ma l'ho preso Quindi sono felice Di me stesso E Sono contento Delle mie opere Ok Eccolo qui Lo sapevo Solo io No No Ma tu con lo scudo Che cazzo fai Ok Aspettate Mi sono sistemato On the On the sedia Proprio On the sedia Ed è bellissimo Big Bang Theory Ragazzi Io non so quanti di voi Lo conoscano Ma se non lo conoscete È un telefilm Quindi Iniziamo dal punto base Cos'è Big Bang Theory È un telefilm Se non lo conoscete Vi consiglio Assolutamente Di guardarlo Ok Se non avete Sky Mi direte Renna come guardo Big Bang Theory E io vi dirò Compratelo Ok Quindi penso sia abbastanza Chiaro quello che dovete fare Scusate per il gruppo di tosse Ma sono certe cose Non posso mica dirle così A cuor leggero No E mica Vorrei dire io Oh che cazzo Mio Dio Ma quello 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 è un cecchino È un tipo Sarà uscito da Cazzo ne so Borderlands Che devi ai colpi Anche Borderlands Borderlands è un altro gioco A cui sto giocando Tantissimo invece In questo periodo Sto giocando In realtà Sto giocando a Borderlands Proprio mentre guardo Big Bang Theory Se no multitasking Io faccio due cose insieme E non sto scherzando Ogni tanto La mia ragazza Quando era qui Che è capitata che Semmai aveva da fare Qualcosa E io mi mettevo a fare altro Quindi effettivamente Giocavo Guardavo qualcosa Mi chiedeva come era possibile Che io riuscisse a fare Due, tre, barra Ventotto cose diverse Tutte insieme Tipo che ne so Giocare Guardare un telefilm E No ascoltare musica Non avrebbe senso Però che ne so Intanto Scrivere a qualcuno E sono cose che poi Impari con il tempo Io non so se Capita anche a voi Capitano anche a voi Questi momenti Un po' pazzarelli In cui Sembrate tipo Dei babuini Da 28 mani Ecco io più o meno È quello che faccio Tutti i giorni Quando non registro Quando registro invece Sono effettivamente Occupato a registrare E a sparare Boiate per tutti voi Perché è bello Dire stupidaggini Così come è bello Ascoltarle No non è vero È solo bello dirlo Mi piace anche Ascoltarlo Perché dovrebbe essere Bello solo dirlo Scusate Diciamola tutta A me piace Ascoltare gente Che dice Boiaggini Ce ne sta tanta Su youtube Tipo me Mi piace Quando riascolto I miei video E dico Guarda quante cazzate Ho sparato Perché Perché è bello Dire le cose Che ti passano Per la testa In quel momento Comunque siamo arrivati A 20.000 miliardi Di milioni Di iscritti Ho conquistato Tutta la terra Perché effettivamente 20 miliardi 20.000 miliardi Di milioni Non penso Ci siano Sulla terra Siamo tipo 8 miliardi 7 miliardi E qualcosa Quindi Penso che Oltre ad aver conquistato La terra Ho conquistato anche Qualche razza aliena Ma va benissimo Così Perché Dovete sapere Che io conteggio Oltre Oltre agli umani Io conteggio anche Le renne Noi renne Abbiamo un pianeta a parte In cui giustamente Ci riproduciamo Facciamo tutte le nostre cose E adesso Mi caspava Porca puttana Ma quello stava lì Che mi aspettava Col cecchinino Mamma mia Ma se ti prendo Ti E quindi Ovviamente Posso avere 20 mila miliardi Di milioni Di iscritti A parte di scherzi Guys Davvero Grazie mille Per i 20 mila iscritti Sto Sto pazientando Per fare il video Ringraziamente Come è capitato Per i 10 mila Perché Voglio fare qualcosa Di speciale E ho una specie Di blocco Dello scrittore Se così possiamo scriverlo Perché io Quei tipi di video Li scrivo Quindi Devo Devo calibrare bene Le parole Per la scrittura Del 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 Per la stus Per la stesura Del testo Mio dio Che italiano Forbito Mamma mia Mamma mia Forbito Che parolone Wow Quando dico Certe cose Mi sento Così renoso Essere Renosi Guys È una cosa Bella Inviterò Tutti voi Tutti voi A provare A provare Ad essere Renosi Almeno Una volta Alla vita E poi Vi assicuro Che non Ne farete Mai Almeno Pubblicità Alla renosità Pro 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 Porco Cane Cane Macchinetta Pubblicità Pro Renosità È una cosa Che devo Inventarmi Creerò Uno spot Per 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 Aiutare La La diffusione Della renosità Nel mondo Una specie Di malattia Autoimmune Che Aiuta La diffusione Dello sdrogo Panico In tutte le persone È Presente Una sotto Malattia Dello sdrogo Dello sdvogo Come Come direbbe Il nostro Caro amico Il nostro Caro amico Tutti voi Conoscerete Sicuramente Tanto sono Certo Che questa parte Del video Non la starà Ascoltando Nessuno Se non Pochissime persone Quindi Quindi saluto Tutti Quei pochi Che mi ascoltano Yeah Abbiamo fatto 10-17 Che pena Con il cecchino Che pene Con il cecchino Mio dio Che grande Pene Eh Grande Che grande Pene Che grande Che grandi Pene Ok Adesso suona Completamente diverso Ok Guys È finito Anche il secondo Deathmatch Noi ci vediamo In un prossimo video Spero di non avervi Ennoiato Spero di non avervi Rennositato Rennizzato Ecco mi piace di più Rennizzato Troppo Noi ci vediamo al prossimo video Lasciate un mi piace Un commentino Enjoy E che la rena sia con voi Bye 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 bye